Abbiamo la terza sfida Iniziamo con la scuola di Cascano Signori a voi la cantante Giovanna Luiso Signori a voi la cantante Giovanna Luisa 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 Basta io Na 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 Temerai No, 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 no Tanto felice che sembra che sia il paradiso Adesso tu ridi e il fuoco si è acceso Amor Dio Basta io Grandi braccia e grandi mani a tutto bene Credo al mio seno freddo non avrai Non temerai Non temerai Amor Dio Basta io Na 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 Tu non temerai Non temerai Amor mio Grazie Allora per l'istituto di Castelvolturno c'è... Allora per l'istituto di Castelvolti